bentornati a patchwork ciao da valentina ed oggi proveremo a costruire un tappetino per il nostro mouse prima di ogni cosa abbiamo bisogno di due fogli di gomma crepla come questi oppure di qualsiasi altro colore voi vogliate dobbiamo innanzitutto creare una forma adesso passiamo ad incollare il pezzo più piccolo su quello più grande adesso passiamo ad abbellire il nostro tappetino io ho scelto queste farfalle in feltro voi potete usare qualsiasi altra cosa e questo è il nostro tappetino provateci anche voi è molto semplice vi aspetto alla prossima puntata di patchwork ciao